Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. In A1 in direzione Bologna è chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Aglio. In A12 per lavori è chiusa l'entrata di Rosignano Marittimo in direzione Genova. Per i cantieri notturni domani notte in A1 in orario 22.06 sarà chiuso lo svincolo di Firenze in Pruneta in entrata in direzione Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!